Paesi bassi. Questo stato noi l'abbiamo un po' italianizzato, no? Perché sentivamo questo termine, no? Netherlands. E l'abbiamo così, un po' storpiato. E quindi chiamiamo spesso questo paese Olanda. Ma il suo nome originario significa appunto questo. Cioè significa paesi bassi. Come nelle prossime spiegazioni di geografia, utilizzeremo le slide del professor Matteo Biagi di una scuola secondaria di primo grado, l'Istituto Pio Artigianelli di Firenze, classe seconda media. Però sono davvero belle, molto belle, fatte molto molto bene. E quindi ringraziamo questo professore. Abbiamo trovato le sue slide in rete. Quando pensiamo all'Olanda, la cartolina che ci viene immediatamente in mente è quella dei mulini che appunto spesso fiancheggiano i canali oppure gli altri corsi d'acqua che si trovano in Olanda. Il regno dei paesi bassi confina ad est con la Germania, a sud con il Belgio, a nord e bagnato dal mare del nord. Ecco qui vedete lo stemma della scuola secondaria di primo grado Pio X Artigianelli di Firenze. Da qui abbiamo preso queste slide. Adesso parleremo un po' della conformazione fisica dell'Olanda, ma possiamo già intuirla da questa cartina. Come vedete è caratterizzato dai corsi d'acqua e dallo stesso mare che spesso si incunia, come vedete, profondamente nel territorio. Questa è già la prima cosa che possiamo dire. La principale caratteristica morfologica dei paesi bassi è la presenza incontrastata della pianura. Solo nella parte meridionale si elevano dolci colline che non superano comunque 350 metri di altitudine. Nella slide seguente, il punto più alto dei paesi bassi, il Walsenberg. E queste appunto sono immagini tratte da questa regione, che è la più alta dell'Olanda, ma come abbiamo detto, non arriva neanche a 400 metri, sul livello del mare. La linea di costa, orlata a nord dal cordone delle isole Frisone, è bassa e soggetta di continuo all'erosione delle maree. Una vasta parte del territorio si trova sotto il livello del mare, ecco perché appunto paesi bassi. E si tratta di un territorio che gli abitanti hanno strappato alle acque con un lavoro secolare difficilissimo. Infatti, gli abitanti, per evitare le continue inondazioni, da sempre costruiscono dighe intorno alle terre da recuperare. Sul terreno così ottenuto, che prende il nome di polder, che vuol dire appunto terra prosciugata, si pratica l'agricoltura e si costruiscono insediamenti. Ecco, vediamo delle illustrazioni che ci mostrano proprio questo concetto. Il concetto del paese basso, sotto il livello del mare, ad esempio, è il terreno che viene strappato, faticosamente, all'acqua prevalente, grazie alle dighe. Su una superficie totale di 41.000 km2, 17.000 sono di polder. Che cos'è il polder? È questo terreno che attraverso delle canalizzazioni, delle opere come appunto le dighe, si riesce a farlo emergere, insomma, dall'acqua. Oggi, comunque, la necessità di disporre di nuovi terreni è meno pressante, mentre è sempre più sentito quella di conservare l'ambiente naturale. Una parte dei terreni ancora paludosi viene perciò conservata, per garantire la salvaguardia dell'ambiente palustre, dei bassi fondali marini e delle specie vegetali e animali che vi trovano nel loro habitat. Ecco, vedete in questa illustrazione, invece, a destra, le fasi della realizzazione di un polder, nel senso che si costruisce una diga, essenzialmente, dove c'era il mare prima, con una strada, delle chiuse, delle pompe, e questo permette, appunto, mano a mano, col tempo, di incanalare l'acqua, di volgerla altrove e quindi di innalzare dei terrapieni, chiamiamoli così, che sono appunto questi polder, con delle stazioni di pompaggio e tipicamente appunto con i mulini che caratterizzano il paesaggio olandese. Intanto, magari tra un polder e una diga, un canale navigabile, perché, come vedremo, c'è una fitta rete idrica fatta soprattutto di canali, di canalizzazioni. Poi ancora, nel proseguo, diciamo, l'estensione di questo polder aumenta, si costruiscono nuovi polder, nuove stazioni di pompaggio, eccetera, per eliminare le infiltrazioni di acqua salata, che sono ovviamente molto frequenti, naturalmente parlando. Come dicono gli olandesi, God created the world, the Dutch made Holland, Cioè, Dio ha creato il mondo, all'olandese ha fatto l'Olanda, nel senso che ha strappato, dicevamo, con molta pazienza e fatica, ha strappato il territorio, l'ha prosciugato alle acque prevalenti, ecco perché gli olandesi sono così fieri di questo antico proverbio fiammingo, Dio ha creato il mondo, gli olandesi hanno creato l'Olanda. L'idrografia olandese, controllata in più punti da possenti argini, assicura ai Paesi Bassi la gestione dei più importanti sbocchi fluviali europei. La Mosa, nell'immagine a Maastricht, è il fiume che appartiene al paese per il tratto più lungo. La Mosa scorre parallelamente a Reno, entrambi sfociano nel mare del nord. La foccia del Reno è costituita da un vasto delta e che fa appunto parte, insomma, dell'Olanda. Più che fiumi, dicevamo, nei Paesi Bassi hanno grande importanza i canali, costruiti sia per prosciugare le terre invase dal mare, sia per la navigazione interna. Ecco un esempio di un canale olandese. Esposti agli influssi atlantici, i Paesi Bassi presentano un clima umido, ma non particolarmente freddo, nonostante la latitudine già elevata e senza notevoli variazioni nel corso dell'anno. Le precipitazioni, piuttosto frequenti, hanno però intensità generalmente modesta. La bandiera dell'Olanda. Il tricolore a bande verticali fu adottato nel 1648. Ecco, il 1648 è l'anno in cui i Paesi Bassi hanno ottenuto l'indipendenza dalla Spagna. Al termine della guerra dei Trent'anni, il rosso fu voluto perché meglio riconoscibile rispetto ad altri colori durante la navigazione. Gli olandesi, come vedremo, sono stati bravissimi, importantissimi navigatori. Praticamente, per complesse ragioni dinastiche, questi Paesi Bassi erano legati alla corona spagnola. Però, proprio nel momento in cui si sono legati agli spagnoli, esattamente in quel momento, è nato un forte sentimento indipendentista, autonomista di questi Paesi Bassi, che poi si è realizzato, soprattutto durante la guerra dei Trent'anni, che è stata essenzialmente persa dagli spagnoli e vinta dai francesi. Approfittando di questa contingenza, gli olandesi sono riusciti a rendersi indipendenti dalla Spagna. Dopo le dominazioni celtiche, ecco, la dominazione celtica, è evidente che sono stati i celti a, diciamo, invadere, erano popolazioni indoeuropee, che hanno invaso anche il territorio dell'Olanda. Poi sono arrivati i romani, fino a Reno, ricordate che il Reno era il confine naturale, l'imes, diciamo, dell'impero romano. Poi sono arrivati i franchi, che hanno invaso l'impero romano, soprattutto poi in queste regioni. A partire dal XII secolo, molte città olandesi emersero come liberi comuni, grazie all'attività mercantile. Ad esempio, alcuni porti dell'Olanda, e non solo, si unirono in una sorta di lega. Con Carlo V prima e con Filippo II dopo, passarono sotto la dominazione spagnola. Però, quando ci furono, appunto, questi passaggi, come abbiamo detto, gli olandesi si ribellarono. E così, nel 1648, ottennero l'indipendenza, crearono una sorta, appunto, di stato, ecco, stato olandese, alla fine della guerra dei Trent'anni, indipendente dalla Spagna. Ebbe inizio così il secolo d'oro dell'Olanda, in cui fiorirono la sua arte e la sua cultura, e in cui, grazie alla fondazione della Compagnia delle Indie Olandesi, qui vedete a sinistra il logo e la sede della Compagnia delle Indie Olandesi, ottenne l'egemonia dei commerci con l'Estremo Oriente, sviluppando una consistente espansione coloniale in Africa, ad esempio nella regione del Capo. Lo sappiamo benissimo che i boeri sono degli europei che hanno colonizzato e sono rimasti in una colonizzazione particolare, perché sono rimasti poi nell'Africa, non hanno colonizzata solo per sfruttarla, ma poi c'è stato un insediamento stabile di questi olandesi boeri nel Sudafrica, che sono il nerbo della componente bianca, la minoranza bianca, diciamo, del Sudafrica che poi, come sappiamo, quando il Sudafrica si è reso indipendente ha anche preso decisamente il potere, c'è stata anche una guerra fra olandesi e inglesi, no? Per il Sudafrica. In America, ecco, abbiamo la guiana, la cosiddetta guiana olandese sarebbe il Suriname. In Asia, in particolar modo in Indonesia, no? Abbiamo tante, o Sri Lanka, o in altre isole abbiamo la presenza di olandesi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nonostante la sua neutralità, l'Olanda ha dovuto subire la durissima occupazione nazista resa celebre dalle vicende di Anne Frank, che appunto era un'ebrea che cercava di nascondersi dai rastrellamenti dei nazisti, ma non ci riuscì, e quindi fu presa, catturata e portata nei campi di concentramento insieme con i suoi familiari. Però, intanto, aveva scritto questo diario che è rimasto come una sorta di testimonianza di quello che avveniva in quegli anni in Olanda. Una foto di Anne Frank. Ovviamente poi c'è stata la decolonizzazione, però attenzione, perché il problema è questo. È vero che c'è stata la decolonizzazione, però a questo punto si sono creati dei flussi migratori negli ultimi decenni proprio dalle ex colonie. E non solo. E quindi l'Olanda è diventato uno delle come dire, delle mete principali di questa grande immigrazione dal sud del mondo. Tanto che in alcune città sono più gli stranieri che non gli olandesi, diciamo, almeno di origine. E addirittura nella città di Rotterdam nel 2008 è stato eletto un sindaco di provenienza marocchina. Ecco, anche per una loro vocazione, diciamo, loro sono sempre stati molto tolleranti nei confronti degli stranieri. Tuttavia, come dire, si sono creati dei casi abbastanza complicati, di questa convivenza fra appunto olandesi e questi immigrati. Soprattutto quando questi immigrati sono ad esempio degli integralisti islamici. È quello che è successo quando è stato ucciso il politico Fortuyn e soprattutto è stato ucciso il regista Theo van Gogh. Qui avete nella foto ad esempio quotidiano olandese con la notizia di questo omicidio di Theo van Gogh un regista ritenuto colpevole di aver girato un documento sulla condizione delle donne islamiche. Ecco, è chiaro che insomma questo ha creato tutta una serie di dibattiti, di polemiche sul futuro della società olandese che insomma abbiamo detto tradizionalmente era molto tollerante però è chiaro che dopo anche questi episodi è scoppiata una sorta di ondata di discriminazione e quindi di forti tensioni diciamo interetniche. il paese oggi è ben inserito nell'Unione Europea della quale è stato uno dei maggiori promotori e uno dei sei paesi fondatori dell'Unione Europea insieme poi soprattutto con il Belgio e il Lussemburg con il quale ha creato una sorta di unità con delle alleanze che si erano create già nei decenni precedenti che hanno preceduto la seconda guerra mondiale e si sono approfondite questi legami insomma nel secondo dopo guerra ecco però come stavo dicendo esistono problemi in relazione alla componente multietnica della società pressata da ingenti flussi migratori non sempre assorbiti armonicamente e quindi le dinamiche che spesso sono dinamiche anche abbastanza difficili ecco l'Olanda è un regno qui avete per esempio una foto della regina Beatrice di Orange Nassau a destra il giovane primo ministro Mark Rutte in carica dal 2010 in Olanda probabilmente si sarà anche avvicendato con altri nuovi primi ministri comunque in generale dobbiamo dire che la dinastia al potere è una monarchia costituzionale è molto aperta è molto progressista diciamo quindi c'è un ottimo rapporto degli olandesi con la propria regina e della regina con i suoi sudditi chiamiamoli così però ripeto si tratta di una monarchia molto moderna molto avanzata poi i paesi bassi hanno una densità demografica come pure un incremento naturale tra i più elevati del continente addirittura il 3,5% di incremento naturale ad esempio in Italia abbiamo un decremento meno 0,1 delle nascite a differenza di quello che avviene nei paesi bassi dicevamo anche molto densamente abitati c'è anche certa ricchezza e ovviamente grandi possibilità di lavoro per tutti anche per gli immigrati nei paesi bassi altrettanto dinamici sono i flussi immigratori specialmente dalla Turchia e dal Marocco vi sono immigrati anche dalle ex colonie come ad esempio Aruba oppure le Antille olandesi in genere ve l'ho già detto c'è una buona integrazione tradizionalmente parlando poi nella tollerante Olanda a discapito di questo ci sono stati quegli episodi di cui abbiamo parlato prima che hanno creato maggiori tensioni ecco la popolazione si concentra però soprattutto in alcune zone come la conurbazione della Randstad Holland una sorta di città circolare appunto un semicerchio che si trova nel cuore dell'Olanda sulla costa del mare del nord una vasta regione urbanizzata che si sviluppa in un semicerchio di circa 60 km di diametro attorno ad un nucleo centrale agricolo protetto dall'espansione edilizia grazie a leggi severe che impediscono esempio l'urbanizzazione ne fanno parte le due principali città dell'Olanda Amsterdam e Rotterdam oltre alle città di Leida Laia Delft Harlem e altre città minori ricordiamo Delft ad esempio perché è la città di Vermeer uno dei più importanti e famosi pittori olandesi una volta nel Medioevole li chiamavano così i fiamminghi erano pittori di grandi abilità soprattutto capaci di come dire di tratteggiare in maniera molto particolareggiata i paesaggi parliamo delle città olandesi la prima città dei paesi bassi per numero di abitanti è Rotterdam che è anche uno dei primi porti del mondo per traffico di merci il porto quasi interamente artificiale dista scusate circa 30 km dal mare del nord immagini di Rotterdam una città moderna eccolo qua il Delft se port l'edificio più alto dei paesi bassi c'è un porto dicevamo in questa città che contiene migliaia 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 di container perché da questo porto poi partono le navi trasportando merci in tutto il mondo si può dire terzo centro per numero di abitanti è l'AIA che svolge in pratica la funzione di capitale amministrativa anche se questo ruolo è riservato dalla costituzione ad Amsterdam qui abbiamo il Parlamento dell'Olanda che si trova appunto a L'AIA il Parlamento olandese L'AIA è una città residenziale elegante cosmopolita questa caratteristica è accentuata dalla presenza di organismi internazionali come in particolar modo la Corte Internazionale di Giustizia un organo delle Nazioni Unite che ha il compito di risolvere le controversie tra gli stati quindi si denunciano a questa Corte Internazionale di Giustizia ad esempio i capi di governo gli uomini politici che si macchiano di gravi delitti contro l'umanità ad esempio per regimi dittatoriali oppure campi di concentramento e pulizie etniche da ricordare inoltre inoltre la città di Utrecht quarto agglomerato urbano del paese per numero di abitanti e sede della più antica università del paese Groninga unico centro importante all'estremo nord del paese e poi la capitale Amsterdam Amsterdam è una città sull'acqua posta alla confluenza dei fiumi Amstel e I o Li è infatti la diga sull'Amstel questo sarebbe anche probabilmente il significato del nome di questa città nasce come un piccolo porto peschereccio nel decimo secolo cresce soprattutto nel diciassettesimo secolo divenendo primo porto mondiale oggi Amsterdam si sviluppa su una novantina di isole collegate tra loro da almeno 500 ponti ed è percorsa da una serie di canali concentrici molto particolare vedete la pianta della città di Amsterdam qui avete alcuni flash insomma di questa città Amsterdam è il più importante pollo mondiale per la lavorazione e il commercio dei diamanti nell'immagine il celebre teschio di diamanti di Damien Hirst che è stato in mostra anche a Firenze palazzi chiese rinascimentali e barocche edifici legati ai illustri personaggi della storia e della cultura come Rembrandt Van Gogh Anna Frank nonché l'atmosfera cosmopolita fanno di Amsterdam una frequentata meta turistica il RISC Museum il tempio della pittura fiamminga ospita capolavori come la Lattaia di Vermeer o la Ronda di Notte di Rembrandt il museo Van Gogh contiene molti capolavori come la camera da letto a Saint-Rémy de Provence e il nuovo museo della scienza e della tecnologia NEMO firmato da Renzo Piano architetto italiano la lingua olandese è strettamente vicina al fiammingo olandese e fiammingo sono due varietà del neerlandese una lingua indoeuropea del gruppo germanico parlato fuori dall'Europa solo nelle ex colonie olandesi ecco motivo per cui insomma per esempio gli olandesi anche spesso parlano molto il tedesco o lo conoscono o conoscono e studiano l'inglese dopo la riforma i Paesi Bassi si sono trovati divisi in una parte cattolica e in una parte protestante la zona nord del paese è in maggioranza protestante quella sud cattolica esistono minoranze ebraiche a destra per esempio una sinagoga e musulmane il 40% della popolazione dell'Olanda non professa alcuna religione scusate quindi diciamo è molto diffuso l'ateismo insomma nell'Olanda non so come dirvi però ecco diciamo che la cultura olandese è sicuramente una cultura molto moderna molto emancipata una cultura spesso radicale o radical chic è diffusa o comunque laicista quindi diciamo la religione nell'Olanda più delle volte rappresenta un lascito della tradizione che non ha più molta non è più molto presente nella società moderna l'economia i paesi bassi sono caratterizzati da un'economia molto avanzata ed ha un elevato reddito pro capite il commercio con l'estero costituisce una componente molto rilevante del sistema economico del paese il 74% del reddito deriva dai servizi in cui lavora l'80% della popolazione il 24% del prodotto interno lordo deriva dall'industria il 2% dall'agricoltura e come abbiamo spiegato il restante reddito deriva dai servizi dal settore terziario è enormemente avanzato sia il settore turistico sia quello finanziario circa metà della superficie coltivata è coltivata a cereali importanti sono anche le coltivazioni delle patate della barbabietola da zucchero e i fiori soprattutto i tulipani anche i tulipani insieme con i mulini da sempre come dire caratterizzano questa nazione sono un marco di fabbrica dell'Olanda tulipani gialli rossi data la stretta relazione tra terra e mare la pesca rappresenta un comparto di rilievo organizzato con tecniche moderne l'aringa occupa il primo posto per quantità di pescato e di lavorato le aringhe olandese insomma diciamo che sono fanno parte anche della cucina olandese tradizionalmente parlando le risorse energetiche disponibili il gas naturale e il petrolio non bastano a soddisfare il fabbisogno della nazione che deve ricorrere alle importazioni l'industria è sviluppata soprattutto nei settori siderurgico chimico meccanico elettronico e alimentare ecco qui alcuni marchi diciamo di grandi ditte olandesi hanno sede nei paesi bassi tre tra le più importanti multinazionali del mondo la Unilever che in realtà è anglo-olandese specializzata nel settore agroalimentare e nei prodotti per l'igiene la Royal Dutch Shell gruppo petrolifero tra i maggiori del mondo e infine la Philips attiva nell'elettronica e nelle telecomunicazioni nel terziario il comparto più rilevante è quello delle attività commerciali che i paesi bassi intrattengono soprattutto con l'estero solidi sono anche gli istituti finanziari e le banche il turismo è cresciuto di importanza ci sono 9 milioni di arrivi dall'estero ogni anno in Olanda soprattutto ad Amsterdam e a Rotterdam ma non solo si va anche ad Elf a Utrecht a Groninga ottime reti stradali e autostradali nonché ferroviarie rendono agevoli le comunicazioni interne e internazionali nella foto sotto potrete notare il curioso scivolo per viaggiatori frettolosi alla stazione di Utrecht l'Europort di Rotterdam contende a Singapore il primo posto al mondo per movimento di merci ecco adesso non abbiamo la possibilità di farvi vedere la struttura estremamente moderna ecco di questo porto dicevamo di questi container che vengono sistemati posizionati sulle navi tolti dalle navi eccetera con tutto un sistema diciamo appunto di comunicazioni di anche meccanico per cui con grande rapidità è possibile ad esempio caricare e scaricare questi container che sono tantissimi c'è un'attività fervente ogni giorno in questo porto che abbiamo detto che addirittura è il porto più importante d'Europa per movimento di merci e contende a Singapore il primo posto al mondo per la movimentazione di merci la compagnia di bandiera quindi parliamo ovviamente di di aerei è la KLM il piatto nazionale olandese è l'hervten zoop una passata di piselli secchi e spezzati una zuppa diciamo ecco qui per esempio particolari sono le case a sbalzo di Wozoko e potete vedere quindi queste case a sbalzo anche in queste altre fotografie oppure le casette sulla spiaggia del mare del nord qui una fotografia di una distilleria del 1600 e così termina la nostra spiegazione su questo paese cioè la nostra lezione di geografia sull'Olanda